Ciao mamma! Ciao Stefano! Allora... Io provo un effetto che faccio una volta ogni vent'anni, no? Si Perché è di una difficoltà Non ha una spiegazione, non può ne scrivere... Non si può scrivere un libro o una cosa del genere Questo deve avvenire se avviene da un miracolo Se non avviene, pazienza Io mentre mesco le carte Taglia pure anche, taglia, fai quello che vuoi Taglia mille volte, cento volte, non c'è problema Nessuno può sapere del mazzo Io mentre mesco tu nomini una carta Quella che vuoi tu Vibra Ma... Carpa di picche Vibra Ora... Sei d'accordo che la carta è solo nella tua mente? No, ovviamente l'ho detta Si Ma... L'ho scelta io Si, si, è ovvio Ok, questo è un problema Io non mi mescolatino Vedete che tutto è regolare Sei d'accordo che sto mescolando? Si, come si Si vede Che non c'è nessun... Ora ti do una cortesia ti dico Puoi anche cambiare la carta se vuoi Ma se no la tieni No, no, tengo questa Ok Da 1 a 50 Si Dami il numero di tono Che ho fatto? Ora... Domino del numero di salti